Destra, è prima, non sono mossa. Destra, ci sono arrivato, sì Sabri. Destra, ci sono arrivato, sì 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 Ok. Ho sbagliato io. Mi sento io e gliela nascondo. No, ero io messo troppo in mezzo al campo. Vai, ma scordaci. Vediamo. Spesso. Due. Difesa. Buona. Buona. Sali, sali, sali. Sempre noi. È acceso? Sali, sali. 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 Prima. Arriva! Chi ho? Vai, vai, vai! Raga, copertura, andiamo! Vane qui! Non lo so, non so perché ora sta così... Perché te la vedi? No, mi sento che la sta perdendo... Cioè... Insomma, lo specchio dove dormo diretto è proprio tosse, quindi mi sento che il corpo non c'è una formula male. Destro! Andiamo, eh! Destro! Sì! Una... Sì! 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 Viene! Sì! Viene! Viene! Non farle così, eh! Vai! Senti, la senti! Mi hai portato via la mano con una spalla. È nostra! Perché devi avere risposta a mano. Vai, vai, vai! Bebulti, se lo hai visto in muro? Sì! È un!